Ragazzi post partita Juventus-Spezia 2-0. Sono contento, anzi no, sono arrabbiato, anzi no, sono felicissimo perché ho conquistato i tre punti, anzi no, ho visto la Juve giocare male. C'è un pochino di confusione nelle mie sensazioni, nei miei pensieri perché comunque se guardo la classifica vedo una Juve che è a soli due punti dalla vetta e quindi non posso fare altro che essere contento. Poi se guardiamo invece una Juve dal punto di vista della prestazione non mi piace quello che ho visto questa sera. Non mi piace perché soprattutto nel primo tempo è una Juve che non si è trovata per nulla nelle combinazioni, ha fatto tanti errori con passaggi anche a pochi metri dal compagno. Ken ha fatto un lavoro secondo me insufficiente per Vlaovic che come al solito si è dovuto sbattere da solo per tutta la partita, ha fatto un gran gol su calcio di punizione. Ha fatto da apripista per poi poter chiudere la partita. Di fatti lo Spezia poi ha cominciato anche leggermente a crederci perché comunque come organizzazione sulla manovra era messa meglio. Però non ha avuto la prontezza di calciare verso la porta, non è quasi mai arrivata dalle parti di Scesni e poi di Perin. Nel secondo tempo purtroppo la musica non è cambiata. Ho visto una Juve sempre in fatica. È entrato Kostic e secondo me sulla fascia sinistra non ha reso come quando ha fatto l'esordio. Sono contento per il primo gol di Milik perché comunque gli dà fiducia. È stato anche un bel gol, si è smarcato. Però non sono neanche d'accordo con Allegri quando se la prende con Vlaovic che deve fare meglio ed essere più preciso. Ma cosa deve fare sto ragazzo? Si sbatte da solo per prendere i palloni, segna, ti apre la partita, poi ti fa da spartiacque sempre e tu te la prendi colui che non è preciso. Ecco, io non riesco a capire questo ragionamento che fa il mister. Però non posso neanche criticare più di tanto perché comunque si è vinta la partita. Perché tanto poi, io lo so, nei commenti qui sotto si dirà, però tu non puoi lamentarti perché hai vinto la partita. Con questo non voglio dire che vincere mi dà fastidio. Vincere fa piacere a tutti, ma c'è modo e modo. Spero di vedere comunque una Juve miglioramento, è arrivato anche Paredes, è rientrato Di Maria. Siamo positivi, siamo positivi, va bene così. Ma non venitemi a parlare che questa sera siete soddisfatti della prestazione. Fino alla fine, Forza Juve! Grazie. Grazie.